E continuo l'appuntamento con Detto Tra Noi, adesso preparatevi perché avremo la prossima mezz'ora tre ospiti che sicuramente ci daranno molte informazioni interessanti, ci racconteranno una vicenda che sono convinto vi appassionerà parecchio. Allora cominciamo intanto da quello che è un ospite quasi abituale qui a Telestense, torna il Cavaliere Franco Ragazzi che è Presidente del Gruppo Modellisti di Ferrara, anche se questa sera in un'altra veste. Intanto ben ritrovato, grazie per essere con noi ragazzi. Allora, questa sera però non abbiamo modellini con noi. Ah, niente modellini. Questa sera infatti si presenta come socio benemerito dell'ANMI che è l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e infatti è venuto in compagnia, giusto? Sì, sono venuto in compagnia che poi è una compagnia da 40 anni o 45 insieme. Quindi è una bella compagnia insomma. È una compagnia. Allora diamo un benvenuto intanto al Presidente dell'ANMI di Ferrara, Luciano Agosti, buonasera, benvenuto. Sì, benvenuto. E un saluto anche a Paolo Menegatti, consigliere sempre dell'ANMI. Buonasera. Benvenuto, tra l'altro in questo caso anche mi dicono componente dei fucilieri San Marco. Esatto. Giusto? Ecco, allora così abbiamo dato un po' tutti i meriti e tutte le cariche. Allora, tra poco parleremo ovviamente con i due ospiti della serata, però volevo chiedere intanto a Franco Ragazzi, come nasce questo legame con la Marina, con i marinai in pratica? Ma tramite una mostra che abbiamo fatto insieme a Giorgio Zanardi, ma mettiamo 40 anni fa, 35 anni fa. È stato qualche anno in pratica. E poi dopo, piano piano, mi sono inserito per fare dei modelli per la Marina. E sì, tutti insieme sono andato dentro nel marinai perché tanto ho trovato della gente brava, della gente mi hanno colto bene, mi hanno fatto... Praticamente sono stato soddisfatto nell'ambiente dell'ANMI. E poi adesso ho avuto anche queste cariche, questa beneficenza. Lei è socio benemerico, è un ruolo importante. Eh, insomma, sì, sì, insomma. E così, insomma, e poi sto lavorando, anche se è un'età abbastanza avanzata, sono sempre presente alle nostre riunioni di giovedì, poi anche fuori, per fare i servizi, i servizi che ci vogliono, ecco. Ecco, devo dire che con Franco Ragazzi, ogni volta che l'abbiamo con noi, possiamo parlare del fatto che l'età quasi è più un'opinione che una realtà, nel senso che avercene di novantenni con questa energia, con questa carica, allora, insomma, ancora, insomma, lunga vita da questo punto di vista. Domino, no, martedì eravamo a Venezia con la presentazione, che dopo parlava a lui. Visto che ci siamo andati, abbiamo fatto una bella figura, e così insomma... Certo, allora conosciamo loro i suoi amici a questo punto. è che li ha portati con lei questa sera, allora abbiamo appunto Luciano Agosti, Presidente Anni, Presidente già da qualche anno, tra l'altro, mi diceva, prima fuori onda, eh? Siamo già al terzo mandato. Siamo già al terzo mandato, ecco. Per cui insomma, ormai è un'esperienza piuttosto importante. Sì, ecco, sì, è stata dura, purtroppo, perché subito dopo che sono diventato Presidente, è venuto a mancare il Presidente precedente, Francesco Mascellani, Pertanto non c'avevo tanta esperienza, a dire la verità. Però, insomma, si acquisisce con tempo l'esperienza. Sì, si acquisisce, però se c'avevo l'appoggio era meglio, ecco. Eh, va bene, purtroppo. Purtroppo, purtroppo è stato così, ecco. Comunque, raccontiamo chi siete, ecco. Per chi non vi conoscesse, la Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che cosa fate e cosa siete? Noi siamo un gruppo di ex marinai, anche simpatizzanti della Marina, e praticamente stiamo, collaboriamo con la Marina Militare anche per la parte dell'arruolamento. Per esempio, noi a febbraio è venuto il Centro Informatico della Marina Militare, con due ufficiali della Marina, più due cadetti dell'Accademia Navale, appunto per presentare ai giovani. Siamo andati nelle scuole e poi il Puma è stato per mezza giornata in piazza, lì nell'Istone, in modo che la popolazione visitasse il Puma e tutta questa roba qui. Ecco, poi ci abbiamo, ecco, come martedì scorso abbiamo avuto l'Anmi Day, la giornata dedicata al mare, siamo stati a Venezia, abbiamo visitato l'arsenale militare, poi le nostre attività sono anche visitare anche le navi della squadra navale, ecco. Adesso ultimamente purtroppo sono impegnati, però otto o nove anni fa siamo stati imbarcati sul Vespucci, abbiamo fatto una navigazione, no sul coso, sulla Cavour, abbiamo fatto circa una navigazione di mezza giornata sulla Cavour, abbiamo visto anche, allora c'erano imbarcati gli arier, c'erano, abbiamo visto dei decolli e tutto. Abbiamo rivissuto quei momenti che quando eravamo, eravamo di leva, ecco, io sono anche uno di leva, ecco, non sono stato un volontario, ecco, della Marina, ecco. Ecco, allora, guardi, poi torno da lei, volevo anche coinvolgere Paolo Menegatti, anche nel suo caso, quindi una leva che è venuta ovviamente in giovane età e poi insomma è tornata questa passione negli anni, in pratica. Esatto, esatto. E allora che cosa ricorda degli anni della leva? Che cos'è che gli aveva piaciuto? Beh, io ho avuto la fortuna di essere arruolato nel San Marco. Sì. Essendo una componente speciale ci rimane il cuore lì. Ho capito, quindi. E anche adesso quando ritorniamo in caserma giù a Brindisi siamo come se non fossimo mai andati in congeno. Certo, quindi insomma è rimasto un legame molto forte. Molto forte. E il riavvicinamento quando è avvenuto? Quando è che è tornato, quindi, e magari è tornato, insomma, si è associato? Quando ho incontrato il presidente Mascellani nel 2008 durante una manifestazione lì in Darsena, che non sapevo che nemmeno che esistesse l'associazione e da allora non li ho più lasciati. E lì dopo è nato questo ritorno di fiamma, per virgolette. Non li ho più lasciati. Certo. Ecco, nel suo caso, Agosti, appunto abbiamo parlato del fatto che lei era in marina quando ha fatto la leva, poi ha fatto una vita, diciamo, parallela, molto normale, tra virgolette, giusto? Sì, ho fatto due anni di marina. Sì. Praticamente, ecco, la mia vita, in questi due anni ho fatto il car alla Spezia. Sì. Dopo il car sono stato alle scuole CEM della Maddalena, come motorista navale. Poi sono stato imbarcato, imbarcato a Taranto, ho fatto circa dieci mesi di imbarco a Taranto. Però è una cosa impegnativa, insomma. Sì, abbastanza impegnativa, perché praticamente allora si girava parecchio. Ecco, ma in quei dieci mesi dove si arrivava, giusto per capire? Noi praticamente abbiamo fatto quasi tutto il Mediterraneo, ecco, non siamo andati tanto fuori, perché poi la mia nave era una nave appoggio, ecco, era una petroliera. Noi facevamo rifornimento alle navi di squadra, ecco. Ma quindi giusto per capire, facciate quindi tappa nelle varie paesi del Mediterraneo, ecco. Abbiamo fatto delle tappe, siamo stati in Turchia, siamo stati in Grecia, in Francia, a Malta, tutte quelle zone lì del Mediterraneo. Sì, sì, no, comunque si entra sempre in contatto con altri paesi, con altre culture, insomma. Sì, ecco, stavamo nei porti, stavamo circa un giorno o due, poi riprendevamo la nostra navigazione, tutto, ecco, al massimo sì, nel periodo che andava da marzo a settembre, eravamo quasi sempre in giro, ecco, poi sono sbarcato a ottobre, sono sbarcato, e il resto del militare l'ho fatto in Accademia Livorno. Ma giusto per capire, cioè, la vita del militare, cioè, il militare praticamente, quando si dice, insomma, che non ha un porto vero e proprio, è sempre comunque aperto al mondo, eh. Quindi, cioè, i militari sono una grande famiglia internazionale, alla fine dei conti. Noi a bordo eravamo una famiglia, perché praticamente è un gruppo unito, unito che ci davamo il cambio, no, erano ben distinte le cose, le nostre mansioni erano molto distinte, non è che facevamo la guardia col fucile e roba del genere, noi avevamo i posti di lavoro, sala macchina o se no chi si... Sì, ognuno ha il suo in pratica. Ognuno aveva il suo, ecco, non è... Di guardia ne abbiamo fatti ben poco, ecco, a dire la verità, ecco, non è... L'abbiamo fatto in periodo del CAR, ecco, ma neanche nelle scuole abbiamo fatto le guardie, perché nelle scuole si studiava, ecco. Certo, certo. Ma oggi per chi fa, lo chiedo a voi, insomma, perché siete voi rappresentati, chi fa il marinaio oggi è diverso rispetto a quello che succedeva 40-50 anni fa? Beh, allora io vedo, vedo, Meneganti un po' che annuisce, non lo so, eh? Sì, 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 beh, adesso, tipo, in San Marco ha varie componenti, ci sono i fucilieri, ci sono i canonieri, i missilisti, varie specialità, anche sulle navi ognuno... Però dico, rispetto ai tempi che l'ha fatto lei, quindi oggi è un po' diversa la vita, oppure più o meno è rimasta quella? No, sono molto più specializzati adesso. Ho capito. Oggi come oggi sono molto più specializzati. Molto più specializzati. Ognuno si indirizza verso una cosa più precisa, in pratica. Sì, beh, adesso... Sì, sì, no, ho capito, insomma, quello che volete dire, ecco, quindi c'è una specializzazione più definita. Una volta era un sacrificio stare imbarcati, perché specialmente io, che ero personale di macchina, non c'era aria, adesso c'è l'aria condizionata dappertutto. Quindi si sta bene, in pratica, si sta meglio. Si sta bene. Una volta non c'era, non erano fatte così le navi. Forse posso dire, non lo so, io ragiono da persona che non l'ha mai fatto, ovviamente il marinaio, forse la cosa più difficile è il fatto di rimanere lontani dai propri affetti, dalla propria famiglia, tanto tempo. Forse questo? Non lo so, chiedo, eh. Però da giovane queste cose qui non si pensa neanche. Si fanno, basta. Si fanno volentieri, ecco, non è... Anche quando eravamo in navigazione e trovavamo mare mosso, robe del genere, però non si pensava al pericolo, non si pensava, ecco... Ma chi voleva chiedere, ragazzi, lei da giovane però non ha fatto il marinaio, eh? L'ha fatto? Sì. Nell'avviazione? Era in avviazione, infatti. Abba no. Ma le manca un po' il fatto di non aver fatto il marinaio oppure le piace aver fatto l'aviazione, va bene così? No, ho fatto l'aviazione perché quando ho fatto i tre giorni si vede che ho lavorato bene, perché lì è lì che scelgono un po'... e mi hanno messo a fare... mi hanno messo il corpo dell'aviazione, ho fatto il carro al BING, dopo un mese si è venuto a Abano e a Abano sono stato lì tutto... però ho lavorato sempre sui modelli, perché ho fatto la villa del comandante e si lavorava dei contratti, io lo faccio per tu mi mandi a casa, ecco... comunque ho fatto una bella esperienza. Quindi insomma dopo lì è rimasto un po' il legame... Sì, dopo per un paio d'anni... Parei faceva già i modellini quando era... Sì, sì, sì. Quindi ho sempre fatto una vita dedicata a questa. Quindi insomma è rimasta questa cosa. È rimasta proprio nel cervello che non si sono... è difficile che vada fuori. Comunque sono contento perché mi ha dato anche una bella esperienza, anche nell'aviazione e poi anche nella marina. Nella marina è tutto... quanto mi hanno chiamato il Stato Maggiore a Roma per fare questi modelli, mi è meglio... Soddisfazione proprio, eh? Qualcosa grande. Immagino, immagino. Perché chi è che si poteva parlare insieme a un ammiraglio o il Stato Maggiore, insomma... E lì, e poi dopo la Sarzana, anche lì mi hanno preso bene e io ero di casa, anche se lavoravo, ma se mi dicono, lei deve fare i nostri lori, a lavorare ci piaceva dopo. Certo. E sì, ho fatto quasi dieci anni. Ah, insomma, è stata un'esperienza importante. Ecco che dopo Zanadi mi ha messo... sono sempre stato insieme a lui, anche quando ero nella Lega Navale. Non so il perché, si vede che mi ha preso bene e ho sempre fatto la vita. Dopo sono stato insieme ai marinai. Certo. Adesso sono contento perché, insomma, lavoriamo bene, siamo sempre in servizio. Poi insomma gira anche lei, guarda di capire, eh? Sì. Perché lei è ancora molto in movimento. Si può dire che è uno dei nostri decani, ecco, perché abbiamo anche un socio di 104 anni, Dante Leoni. Però, sì, però... Dante Leoni, ecco, è molto attivo ancora, è molto attivo. Ma vi chiede una cosa, non so se questa è una domanda un po' dolente, col fatto che non c'è più la leva oggi con i giovani, come ci si comporta? Ma i giovani sono molto distanti. Sono distanti. Ma io, noi, per esempio, ogni anno facciamo delle richieste per i brevi imbarchi sulla nave Vespucci o Palinuro. Per questi due anni qui la Vespucci non c'è perché, appunto, è fuori all'estero. Però l'anno scorso, per esempio, un ragazzo, sì, quasi ogni anno un ragazzo o due vanno via per dieci giorni imbarcati, fanno la vita da marinaio per dieci giorni su un vegliero che è molto, molto bello. E poi gli danno la possibilità anche di studiare e fare anche degli esami. Ho capito. Quindi diciamo che con questi dieci giorni loro un po' capiscono se hanno questa vocazione, diciamo così. Io parlo di vocazione perché credo che sia proprio una roba che uno o si sente dentro, altrimenti non so se ce la fa. Esatto. Qualche giovane rimane, ecco, però sono rari, ecco, sono rari perché purtroppo adesso i giovani… Però una nuova generazione servirà, immagino, per cui bisogna formarli in qualche modo. L'esperienza, l'esperienza, penso, ma ci sono due, ecco, per esempio anche di questi giovani qui, due, due, per esempio, sono ancora, sono militari, ecco, sono effettivi. E quindi, Marina, uno… anzi, noi abbiamo, mi sembra, sette soci che sono effettivi. E quindi dove sono adesso? Sono in giro per il mondo? Sono in giro? Ah beh, due sono in missione, uno è in missione con la nave Duilio, nel Mar Rosso, che ha dato il cambio a un altro socio che è rientrato con la sua nave. Ecco, solo che purtroppo con il Duilio ultimamente ci sono un pochino di… Ah sì, sì, sì. E poi abbiamo due soci giovanissimi perché uno di questi che è venuto anche a febbraio, appunto, è il secondo anno dell'Accademia Navale. e un'altra, un'altra socia ci abbiamo che fa il quinto anno, già una guardia marina. Ecco, quello che ci manca praticamente, noi non abbiamo dei marinaio proprio di truppa, ecco. Vabbè, lanciamo l'appello. Eh, cosa voleva dire? No, no, niente, niente. Se volessi candidarsi a fare il marinaio, eh? Magari, magari. È passato qualche anno, magari, so. No, però, ipotizziamo che in questo momento, visto che la TV, come sapete, arriva a tutti, quindi può anche arrivare a qualcuno che magari ha, magari ha sempre desiderato, ma non ha mai osato. Chi, un qualche giovane che volesse avvicinarsi, cosa deve fare? Intanto può rivolgersi a voi per avere informazioni? Eh, si rivolge a noi per avere delle informazioni, come… ma più che altro per avere solo delle informazioni, perché noi siamo abbastanza aggiornati sui vari concorsi che ci sono, ecco, e tutto. Ecco, ci teniamo aggiornati, poi… E… Pertanto, non possiamo aiutare a fare i concorsi, ma solo a presentare i concorsi, ecco, perché… Ovviamente faranno strada nel caso… Quelle cose lì non… Sì, infatti… Voi dove avete sede a Ferrara? Dov'è la vostra… Sì, in via Borgolioni, ecco, è il vecchio stabile della navale assicurazione. Ok, perfetto. Quindi lì avete… Tutto, tutto, era il tutto patrimonio di comandante Zanardi. E voi vi trovate spesso? Come vengono le vostre riunioni, i vostri… Ma, ultimamente si poteva dire che ci incontravamo tutti i giorni, ecco. Il discorso della pandemia abbiamo un po' diluito, ci ha preso parecchio perché praticamente si fa fatica a riprendere, ecco, si fa fatica a riprendere. Prima, quando c'erano delle uscite nelle gite, nelle visite dell'accademia, in accademia o le varie caserme della marina, eravamo un bel po'. Adesso facciamo un pochino fatica, ecco. Penso che tutti gli altri gruppi sono messi in valore. Adesso invece c'è calato. Adesso bisogna un po' rivacizzarlo allora, eh. Bisogna, bisogna. Beh, comunque c'è sempre la possibilità, insomma, di ripartire. Adesso sappiamo che, insomma, anche se già siamo usciti da un po' di tempo dalla pandemia, però, insomma, so che certi settori, non solo parlando di voi, si stanno riprendendo. Si stanno ancora un po', eh, stanno ripartendo un po' la volta, un po' rilento, ma stanno uscendo così. Allora io voglio solo prendere una parentesi a parte perché tra poco, tra l'altro, ci dobbiamo salutare. Perché approfitto del Cavaliere Ragazzi che è con noi per chiederle invece, visto che l'ultima volta che è venuto, ci ha dato gli appuntamenti del Parco Urbano, ecco, c'è qualcosa di imminente? No, il 18 maggio abbiamo un campionato. Ah, ecco. Bene, questa è una notizia. Con circa 28 marche. Marchevela. Ok, quindi Parco Urbano, sempre sul laghetto del Parco Urbano. Dopo vengo a fare due chiacchiere più avanti. Ah, quello noi lo aspettiamo sempre. Cuga il 18 maggio è la data in cui si comincia. Il 18 maggio abbiamo una gran gara nazionale che ci sarà, doveva essere, per favore, c'è Mestre, Mestre, Venezia e poi c'è Livorno e poi forse viene anche di Firenze. Ho capito. Insomma, è circa 27-28 barche, poi dopo c'è anche la barca elettrica, che facciamo 10 minuti, facciamo una gara di 10 minuti la barca vela e poi dopo partono con quelli elettrici, perché l'elettrica è molto bello. Certo, allora quindi ricordiamo gli appuntamenti che sono veramente appassionanti, un po' per tutti, è tutta l'età. L'ultima volta che l'è venuta ricordo che abbiamo parlato anche dei bambini, insomma, che magari forse oggi i ragazzini hanno poca pazienza, diciamo così, di stare lì a lavorare con i modellini, però si divertono molto a vederli, insomma, quindi a vedere quello che fate. Ripeto, al Parco Urbano poi c'è queste barche che sono molto appassionanti. Anche voi seguite, immagino. Sì, voi però avete mai provato a fare modellismo oppure… Ci ho provato, ma… Nel suo mondo, ecco. Ma io ci ho provato anch'io, infatti quando ero militare e che ero in accademia, che avevo più tempo disponibile e cose del genere, però ci vuole molta pazienza, molto, ma molta pazienza. Nel militare ha fatto la vittoria a Veneto. Ah, addirittura. A 1,30 di lunghezza. Mamma mia. E poi siamo andati a provarlo, ho detto in quel laghietto che hanno firmato l'ambistizia del 18 in quel posto. E poi dopo il comandante ha detto, ah sì, adesso mi fai la villa. Ma giusto, adesso. Da un dito si prende il braccio. Mi fai la villa. E poi aveva il problema per prendere la scala, che non ero capace di farla. Comunque gli ho suonoriuso a farla. Ma immaginavo, immaginavo che… Arriba sempre in fondo all'obiettivo. E poi dopo, quando è stata fondata l'Andrea Doria, ho fatto il modello. L'ho presentato alla fine Padua, ho fatto un gran successo. Che lì dovevo andare alla fine città, poi mio papà ha detto, ma no, non puoi andare perché stiamo facendo la casa, sai. Vabbè, si è preso altre soddisfazioni nella vita poi. Sì, poi dopo la vita… Pronto, intanto poi la mia vita è piena di attività. Eh, ma immaginavo, appunto. Per cui, insomma… No, poi posso dire, trovare dei novantenni che ancora oggi sono attivi come lei, non ce ne sono tanti, credo. Ma io cerco di mantenere. Ma è giusto, infatti è un modello… Anzi, adesso quando sto lavorando per quel famoso cucintoro degli stessi, che è un capoloro solo, che ci vado degli anni. Eh, certo. Vabbè, però… Se avete un socio di 104 anni ce ne è ancora. No, ma devo fare altri 3-4 anni in più per finire il lavoro. Eh, vabbè, insomma… Noi, la prossima manifestazione per noi sarà il 27 aprile, l'inaugurazione dell'aria verde intorno al monumento, angolo via Pomposa. Perfetto. Caldirolo. Pertanto, ecco, abbiamo invitato anche il Presidente nazionale, Ammiraglio Rosati, ci deve dare la conferma adesso perché… Quindi 27 aprile? 27 aprile, un sabato, 27 aprile, insomma, dove c'è lì nell'anno tra Caldirolo e Pomposa, via Caldirolo e via Pomposa. Sto parlando con la Daniela per fare questo, ecco. Eh, poi insomma, con la Daniela parleremo, non è certo. Ecco, lì abbiamo l'aria verde intorno alla nostra nave maestrale, la nave maestrale che praticamente la nave maestrale era la nave dove è stato, dove ha avuto il primo imbarco il comandante, il nostro comandante. Ecco, pertanto, ecco, più che altro il parco, cioè il giardino è dedicato a tutti i marinai, ecco, perché non siamo stati lì a dedicarlo al comandante Zanardi, però ecco… Diciamo che lì comunque batte il cuore, in qualche modo. Lì la nave si può dire che è sua, perché l'ha fatta lui. Allora, guardi, io con questo bel ricordo devo chiudere perché siamo in dirittura d'arrivo, però io vi ringrazio perché ci avete trasmesso, devo dire, una grande passione. Come l'avete trasmesso a me, penso che l'avete trasmesso anche al pubblico da casa, per cui ringrazio allora Paolo Menegatti, ovviamente il Cavaliere Franco Ragazzi che conoscete bene e anche Luciano Agosti, devo dire, siete stati molto appassionanti nel raccontare tutto. E ovviamente lunga vita all'anno, continuate con le vostre attività. Grazie mille, noi chiudiamo detto tra noi, ci vediamo tra sette giorni, grazie a tutti e buona serata. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie mille, grazie a tutti.